Intanto si va avanti con gli altri vaccini, si va avanti spiegando a tutti i cittadini che la vaccinazione continua ad essere l'unico antidoto possibile. Ecco, non esiste un altro. Il Ministro Speranza ha chiarito che con tutti i colleghi ministri della Unione Europea si è deciso di attendere le valutazioni che EMA farà nei prossimi giorni sul vaccino di AstraZeneca, secondo me è una scelta saggia perché consente ai cittadini, quando si ripartirà, di avere tutte le informazioni necessarie. Noi intanto andiamo avanti, andiamo avanti con gli altri vaccini. Da poste italiane ci viene confermato che domani sarà possibile partire con la prenotazione degli estremamente vulnerabili.